Per Settimana Sport siamo con Samuel e Fossa della Gugliardica. Allora, cominciamo da Fossa. Direi che sei molto veloce, sei molto bravo, hai dei buoni tocchi di palla e devo dire che hai messo in difficoltà molte volte i giocatori della Gugliardica. Scusa, Delito, scusami. Dimmi le tue impressioni. Impressioni che... Allora, siamo una squadra giovane, nuova. Dobbiamo ancora acquisire un'identità di squadra, però per adesso andiamo avanti con i mezzi che abbiamo. Ci siamo riusciti a mettere in difficoltà, abbiamo concretizzato quelle poche volte che ci siamo trovati davanti alla porta e speriamo vada sempre così. Tu cosa ne pensi? Penso che stiamo iniziando a mettere le basi per le prossime partite di campionato. Oggi abbiamo dimostrato di essere una squadra competente, comunque che anche se siamo giovani non abbiamo paura di nessuno. e ora speriamo di giocare così tutte le prossime partite senza paura, motivati. Ok, vedo che siete un bel gruppo, molto scherzoso, scherzate sull'intervista. I vostri compagni mi fanno degli scherzi che non si vedono, ma vabbò dai. Ciao ragazzi, un buon colpo alla prossima. Ciao.